Il 25 aprile Faccio High School ha due siti, uno in Quarnier e l'altro in Castellamonte. Quarnier è una città con 10.000 abitanti. La città è in nord-western Italia, a fuori delle Alps, a fine dell'Orco Valle. Quarnier è una città con il Gran Paradiso National Park. In ultimi decenni, la città di Quarnier è stata molto famosa per la fabbrica texana. La nostra scuola è una scuola secondaria tecnica, includendo 5 adressi. Technical Economical Course, Technical Economical Course for Tourism, Technical Course for Surveyors, Professional Course for Healthcare, Artistic High School. La nostra scuola è una scuola di un'altra 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 scuola di un' I'm Pietro I'm Cristian I'm Anna Maria Francesco è uno dei miei scuolari e sofferti con l'autismo e il sindrome di Down non parla in modo che si tratta di comunicare e lo amiamo molto bene non spende molto tempo con noi in classe ma fa molti attività in un lavoro il progetto chiamato Scuolgarden era nato a lui per cui si può prendere le planti e a volte scoprire nuovi parfum e i suoi sapori i classi sono distribuiti in tre stagioni diversi questo è il primo luogo chiamato Headquarters e questa classe è 3-2 questo è il secondo luogo dove siamo e questa è la nostra classe finalmente il terzo luogo con gli studenti del corso sociale questo è il laboratorio dell'ICT dove utilizziamo un specifico software questo è il lab di Physica dove facciamo molti esperimenti questi sono i labi di scienze dove studiamo la biologia e l'anatomi qui è il luogo dove stiamo per le settimane e le lettere questo è il gym uno dei miei posti favoritari della scuola qui potete trovare le informazioni del nostro scuola e dei corsi Grazie a tutti